Settimana delicata in casa Bianco Rosso dopo il pari con Ricorticella arriva un mezzo passo falso in quel di Meldola per la formazione di Mastro Nicola. Il pari va stretto a Rimini che dopo aver giocato per 45 minuti nella ripresa smette di giocare. Il Meldola tuttavia non ha creato particolari occasioni da rete ma è stato bravo a rimanere in partita e soprattutto a crederci trovando i gol proprio allo scadere. E se è vero che attorno a Rimini cresce l'attenzione tra il pubblico locale la pazienza diventa migliore virtù quando per via di un buco nella rete Scotti alza Valeriani al cielo libero di cucire lo strappo e di dare finalmente via a un match molto attenso soprattutto dei padroni di casa che vantano la peggiore difesa del campionato e non a caso già in avvio mettono Cicarevic nelle condizioni di innescare Buonaventura. Quest'ultimo è libero di andare alla conclusione ma senza fortuna. In Meldola nonostante la rete risulti rattoppata di inquadrare la porta proprio non vuol saperne la punizione di Carlucci si spegne alta. Dall'altra parte Rimini sfiora la marcatura Cicarevic decide di rappresentare nel migliore dei modi il numero 10 che indossa attraversano al centro dove sbuca la testa dei signorini con la sfera che si spegne di un niente a lato. Valeriani una volta salito in cielo per aggiustare la rete mostra il enorme sforzo fisico con un tiro debole che però crea più di un grattacapo a Calderoni. L'ex portiere di Atalanta e Torino deve però arrendersi a quarto d'ora quando dopo un'azione manovrata Buonaventura aggancia il pallone cieco una sponda ma il pallone torna sul suo destro. L'ex fornì sfonda al centro l'invitante traversone che Cicarevic come un vero rapinatore d'aria di rigore raccoglie e spedisce il fondo a sacco. Eseguendo il gesto della mitraglietta Stile, Gabriel, Omar, Battistuta, Fiorentina, fine anni 90. Buonaventura decide di rendere più operosi il pomeriggio a Calderoni che deve distendersi per neutralizzare il suo tiro mentre Contarini poco dopo dimostra che i piedi sono andati a campo di Meldola, chi vuol capire capisca. Da una punizione in oqua di Righini nasce la precisa chiusura in corna di Calderoni onde evitare pericoli maggiori. Pericoli che il Meldola sembra crearsi da solo quando Piracini rischia l'incredibile autorete sull'incursione di Signorini. Da brividi. Piracini cerca di riscatarsi qualche minuto dopo ma la sua conclusione dalla distanza appartiene ai piedi da campo. Vedasi Contarini che non contento proprio dopo la mezz'ora in numero 8 si divora il raddoppio con un pallone che giunge all'altezza della lunetta del calcio di rigore ma il centrocampista alza la mira. Si chiude qui la prima frazione di gioco. Nella ripresa il tiro cross di Cicarevic viene murato da subito da Calderoni. L'azione prosegue con Arlotti che alza la sfera sopra la traversa. Partita noiosa, Mastro Nicola però incoraggia i suoi. Righini sembra ascoltarlo quando pennella questa punizione per la testa dei Valeriani, anticipato sul più bello da Carlucci. Poco dopo arriva la prima conclusione alla ripresa del Meldola con Mantovani che non in quadri bersaglio e il presidente per Paolo Guglioni, mai d'uomo, è costretto ad alzarsi dalla tribuna, ad inverire contro arbitro ai giocatori. Prova a fraccarlo la donna che li siede accanto ma il presidente proprio non vuol sapere. Si agita nuovamente, alza il berretto, poi dialoga con il figlio Gabriele che prontamente risponde con chiarezza. Rimini vicinissimo al gol attorno alla mezz'ora, punizione di signorini, tocco dello scorpione di Brighi che prolunga per la testa di Buonaventura ma viene fischiato un fuorigioco mentre la palla si spegne lentamente a lato. Valeriani non ci crede e tenta di colpire, sfera di pochissimo a lato. Più bravo invece a colpire dalla parte opposta il Meldola. Abdur, forse prossimo acquisto del Rimini, da terra riceve palla da bara, affonda solo a sinistra mettendo al centro un pallone per la corrente russomano. La gioia è incontenibile per i giallorossi di casa e il presidente Gugnoni quasi non ci crede scambiando i Rimini per il Milan. Abbiamo pareggiato con il Milan, con i Rimini scusate, questa è una partita che rimarrà nella nostra storia e sono lieto che rimanga unita al mio nome. Marstonicola invece dall'altra parte ci tiene a precisare. Più o meno quello che era successo domenica scorsa, abbiamo concesso forse l'unica occasione da rete e siamo stati uniti secondo me oltremodo severamente. Mentre si continua a festeggiare, Abdur va vicinissimo al raddoppio, provvidenziale la chiusura di cola e mentre la partita è agli sgoccioli, qualcuno, quasi per immortalare il momento, decide di bussare alla nostra porta per una dedica speciale. Un signore che vuole salutare la propria moglie, prego, prego. Balleriani vorrebbe d'aggressione vincere il match, Calderoni però è pronta a dirgli di no e la partita termina qui. Rimini-Meldola 1-1 e allora questa volta chi lo spiega?